Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video dedicato alla pirografia writing with fire. Prima di tutto, per un buon risultato, dobbiamo smuovere la città bene, con un strumento elettrico e poi con la mano, con un piacere molto tino. Se vogliamo, il lavoro può essere fatto con la mano, con il piacere. Qui siamo smuovendo la città con il piacere. Qui siamo smuovendo la città con il piacere. Qui siamo smuovendo l'integno della città con il piacere. Ora iniziamo con il bambino con un pirografo di temperatura ajustabile. Grazie. 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 Dopo la scelta, riduzzo la temperatura e vado lentamente, molte volte, come se fossi usando un crayon. Grazie. 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 Grazie.